Se il ripescaggio del Fano in Serie C sembrava possibile, ora appare un'utopia. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha infatti pubblicato nella serata di ieri un comunicato ufficiale nel quale è stata riportata l'esclusione dell'Alma Juventus-Fano da un possibile ripescaggio. Granata che, a poco più di due mesi dalla sconfitta contro Limolese nei play-out che le ha visti retrocedere in Serie D, si vede ora sbattere la porta in faccia verso un possibile ritorno in C. Un duro provvedimento preso dalla Federazione per tre principali motivi. Il mancato depositamento della fideiussione Mediolanum S.p.a. del 16 luglio presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'assenza di documentazione relativa ai valori minimi di illuminamento verticale medio dell'impianto e le mancate sedute individuali per le tribune riservate al settore ospiti. Tutti requisiti che la società fanese doveva essere in possesso prima del termine perentorio del 19 luglio, ultimo giorno disponibile in posto dalla FIGC per entrare in una posizione regolare ed essere fiduciosi per un possibile ripescaggio. La prima graduatoria, che vedeva l'Alma Juventus-Fano al quarto posto dietro Latina, Lucchese e Fidelisandria, è stata ora modificata, con i Granata che saranno sostituiti dalla Pistoiese. Un verdetto che sorprende il presidente Mario Alessandro Russo, il quale però non ha esitato a contattare gli avvocati per presentare il prima possibile il ricorso al CONI. Una notizia spiacevole per l'ambiente per i tifosi del Fano che, dopo aver assistito alla retrocessione sul campo, vedono ora spegnersi gli ultimi berlumi di speranza.